In sei minuti il consuntivo della sua attività fra i carabinieri forestali e un breve amarcord della sua vita. L'intervista sta rimbalzandosi i social una settimana esatta dalla tragedia sulla strada provinciale morronese fra Sulmon e Pacentro. Era di venerdì quando il corpo dell'ex forestale è stato rinvenuto senza vita. Oggi una santa messa in suffraggio sarà celebrata a Perugia, quella terra che Conti aveva lasciato il 31 ottobre per andare alla Total. La discarica più grande d'Europa di bussi sul Tirino con tutte le indagini conseguenziali, rinvia giudizio e le condanne effettuate a quelli che sono i titolari o comunque coloro che per quanto attiene la creazione e la tenuta in opera di quella discarica sono sicuramente una bella soddisfazione operativa per chi comunque ha conseguito il risultato. Aveva detto Conti rispondendo alle domande dei giornalisti poi ha parlato anche di come negli anni è cresciuta o meno la sensibilità ambientale. Sono sempre storo dell'idea che il popolo italiano sia sempre di classe aveva aggiunto l'ex forestale. Sono passati sette giorni da una tragedia che ha messo in ginocchio la città ancora sotto shock. Si cerca la terza lettera spedita a chissà chi. Conti è morto dopo un colpo di pistola che aveva ricevuto in dono pochi giorni prima da un amico dell'Aquila sparato a bruciapelo alla Tempia. La procura della Repubblica di Sulmona che indaga per istigazione e suicidio sta ricostruendo gli ultimi movimenti dell'ex forestale dalle dimissioni alla Total annunciate in una telefonata anonima prima da noi alla cancellazione dei dati dal PC fisso e il processo di vaporizzazione che Conti aveva chiesto ad Archimede fino ad arrivare agli ultimissimi movimenti l'acquisto di tre buste bianche, un franco bollo e il prelievo al Bancomat che sarebbe avvenuto stando ad alcune indiscrezioni sempre nella terribile mattinata del 17 novembre poi il buio Conti ha fatto perdere le sue tracce e da metà mattinata fino alle 17-19 ora presunta della sua morte nessuno sa che cosa abbia fatto sono in corso gli accertamenti di investigatori e PM che vanno avanti con le indagini.